E' una interessante fiera specializzata che mantiene l'attenzione di questa istituzione su un settore, settori diciamo cruciali per la nostra economia. La seconda edizione della fiera nazionale inerente ai settori della panificazione, pasticceria, gelateria, pizzeria, bar, vini, ristorazione, pasta fresca, pubblici esercizi e hotel mostra un trend in netta crescita rispetto all'edizione precedente. Dal 13 al 17 marzo ha raddoppiato gli spazi espositivi 28.000 m2 su tre padiglioni 18, 19 e 20. Fra le numerose iniziative il forum sulla panificazione è quello della pasticceria, i laboratori attivi e poi un ruolo di primo piano lo avrà il consorzio della focaccia barese, un prodotto che è in attesa dell'indicazione geografica protetta. Il 17 marzo, in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, sarà creato un pane italiano, miscelando farine provenienti da tutta Italia. Non esiste infatti un pane nazionale e verrà creata anche una focaccia tricolore, farina, olive e pomodoro. Intanto al neopresidente della fiera del Levante abbiamo chiesto a che punto è il processo di privatizzazione della fiera. Bisognerà distinguere con precisione quello che c'è dentro l'unica parola fiera. Dentro ci sono un aspetto immobiliare patrimoniale pubblico, che nessuno vuole privatizzare, e un aspetto gestionale di attività che invece va verso la privatizzazione. C'è bisogno del regolamento attuativo della legge regionale e di una serie di passaggi all'interno dell'istituzione ente fiera per arrivare a questo risultato. Qui dobbiamo arrivare senz'altro.